Il focus, la capacità che abbiamo di concentrarsi sulle cose, se da una parte ci dà dei grossi vantaggi, dall'altra può toglierci molto. Questo ci porta ad una riflessione profonda che durante le nostre giornate molte volte ci concentriamo su diverse cose, ma la domanda è stiamo perdendo di vista delle cose molto più importanti di quelle su cui stiamo prestando attenzione? Quando entri in ufficio e cominci a fare le cose in modo indiscriminato, si affollano sulla mia scrivania a richiedere alla mia attenzione un sacco di elementi che non è detto siano le cose più importanti per me è per la mia azienda, è per le mie persone. Perdiamo soprattutto di vista la relazione impatto-attività. Ammettiamo che tu stia facendo quattro attività contemporaneamente che hanno un impatto, questo è l'impatto, I come impatto. L'attività 1 ha un impatto 5, l'attività 2 ha un impatto 20, l'attività 3 ha un impatto 7, l'attività 4 ha un impatto 20. E tu le consideri tutte uguali perché stai dando a loro la stessa attenzione la stessa quantità di tempo stai provocando un danno enorme perché a queste attività hai tagliato tempo e quindi praticamente le stai facendo sacrificare delle attività che avevano un impatto un impatto enorme. L'eccellenza personale non è il raggiungimento di un livello standard ma è il raggiungimento della creazione di un valore che è del tutto individuale o del gruppo di cui tu appartieni. Questo è possibile solamente se diventiamo capaci di selezionare le nostre gold activity. Una gold activity è semplicemente una corsia preferenziale per la creazione di valore e ad un certo punto dobbiamo capire come si fa a riconoscerle. Innanzitutto innamorandosi della vecchia cara legge di Wilfredo Pareto, ancora valida oggi come se fosse stata inventata ieri, scegli sempre il 20% di attività che ti danno l'80% dei risultati. Quindi questa è la prima legge da tenere sempre presente. Quindi hai 10 attività? Quali sono quelle due attività che sono in grado, se fatte, se portate a termine, se fate in modo eccellente di portarti l'80% del risultato? E poi ci sono dei fattori chiave, i fattori chiave che devono essere sempre ricercati in qualsiasi gold activity. Il primo l'abbiamo già visto, l'impatto. È vero che devo ricercare le due o tre che danno la maggior parte del risultato, ma devo sempre ragionare in termini di impatto. E quindi qual è l'impatto? Questo ci serve anche per deselezionare, per essere più tranquilli di deselezionare delle attività. Siccome non possiamo far tutto, le prime cose che devono essere buttate fuori della nostra mongolfiera, l'alzavorra, sono proprio quelle attività che hanno un impatto inferiore. Secondo fattore chiave, abilità. Io devo essere abile in un'attività, perché se mi ostino a fare una cosa in cui non sono abile, rischio di avere una sfilza di punti deboli che ho fatto diventare accettabili, ma pochi punti di eccellenza. Passione. Mi deve piacere. Una attività non sarà mai gold se non ti piace. Quarto fattore chiave è il fattore sfida. E quindi quel fattore che ti porta fuori dalla tua zona di comfort. Se rimani sempre nella tua zona di comfort, non crescerai mai e non andrai mai ad attraversare il tuo limite di oggi. Un altro elemento da considerare è la percezione del tempo quando siamo in queste attività. Gli antichi greci distinguevano il tempo in due categorie. Il tempo kairos, e quindi quel tempo in cui dicevano qualcosa di speciale accade. Kairos loro lo definivano il tempo di Dio. Quando sei in gold activity, il tuo tempo si dilata quasi. Il tuo tempo assume significati diversi. Sicuramente se state facendo un'attività poco piacevole o poco interessante o poco sfidante per voi, siete nelle condizioni invece kronos. Kronos, gli antichi greci lo definivano il tempo cronometrico, quello che è praticamente oggettivamente riscontrabile. Quindi se siete in attività kairos, sentite anche che il tempo dura in modo diverso. Per cui le gold activity ci portano ad un concetto di produttività reale, piuttosto che di impegno forzato. E quindi, dico, è sempre meglio essere produttivi piuttosto che impegnati. Essere impegnati siamo bravi, siamo tutti sovra impegnati. Essere produttivi, nel senso di saper scegliere le cose che ci fanno crescere di valore, che fanno crescere di valore il nostro gruppo, che fanno crescere di valore la nostra azienda, è un'altra partita. Se non impariamo a mettere prima le cose importanti nelle nostre agende, rischiamo di riempire la nostra vita, le nostre agende di tanto rumore di fondo, con poche opportunità di dare espressione ai nostri migliori talenti per essere impegnati nelle nostre gold activity.